. Soleil esce con Marco Cartasegna mentre Onestini è al GF VIP, la sorge interviene per fare chiarezza. . Il grande fratello VIP travolge in un vortice di pettegolezzi non solo gli inquilini della casa ma anche coloro che sono in qualche modo legati ai beffini. . In queste ore, è toccato a Soleil sorge difendersi da alcune insinuazioni fatte sul suo conto e che metterebbero in dubbio la sua lealtà nei confronti del fidanzato Luca Onestini. Soleil sorge in auto con Marco Cartasegna. . Consultando le Instagram Stories di Soleil, gli attentissimi utenti hanno notato che la modella si trovava nell'auto di Marco Cartasegna, extronista di Uomini e Donne. . Inoltre, alcuni sostengono di aver visto i due chiacchierare sullo sfondo di un video pubblicato da Giulia Salemi e che poi sarebbe stato prontamente cancellato. Soleil sorge smentisce il flirt con Marco Cartasegna. Soleil sorge è intervenuta su Instagram per chiarire che tra lei e Marco Cartasegna cè una semplice amicizia e nulla di più. . Mi spiace deludere la vostra malizia ma siamo amici, c'erano più persone in quella macchina anche se non sono tenuta a giustificarmi. . Ad ogni modo le persone a noi care ne sono a conoscenza e la storia delle Instagram Stories cancellate l'avete inventata voi perché non ci sono problemi ad essere visti parlare dato che non c'è nulla da nascondere. Insomma, Soleil sorge non ha alcuna intenzione di compromettere il rapporto con il suo fidanzato. Soleil e Marco si sono conosciuti a Uomini e Donne. . Nel corso dell'esperienza Uomini e Donne, Soleil sorge, Luca Onestini e Marco Cartasegna sono già stati protagonisti di un involontario triangolo. Soleil, infatti, per un breve periodo realizzò delle esterne sia con Luca che con Marco. Una volta compreso che il suo cuore batteva per Onestini, aveva scelto di frequentare solo lui. L11 maggio 2017, la fatidica scelta che li ha portati a essere una coppia a tutti gli effetti. Da allora non si sono più lasciati. . 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